Buonasera da New Radio Smile, abbiamo una nuova sezione, la sezione delle scommesse, abbiamo qui un esperto del Bet, a cui chiederemo delle dritte per le partite di questa sera. Allora, una dritta su Juventus Torino, il derby della Mole. Buonasera a tutti i web radioascoltatori da New Radio Smile, questa sera vi porterò alla cassa a denti stretti. Allora, Juventus Torino. La partita questa sera è da gol e da X, il Torino è molto motivato in questo derby, la Juve manca qualche pezzo importante in difesa e il Toro sicuramente questa sera farà la sua parte. Ok, ok, un'altra partita di Serie A delle 20 e 45, Lazio Sassuolo. Anche qui ci sarà una sorpresa, la Lazio è in fase calante, in contestazione, poca motivazione in campo, il Sassuolo ha tutto da perdere e quindi sicuramente sarà su un X2. Da segnalare anche per questa partita una contestazione dei tifosi della Lazio, una contestazione atipica, salva la Lazio, previsti 50.000 spettatori. Ora passiamo alla Liga Spagnola, partita delle 19, Valencia-Granada. Qui partita da Under, due difese che si scontrano, che sono molto arcigne, ma il Valencia può vincere di misura, quindi vi consiglio uno più Under, o solo l'Under, che paga bene. Va bene, è un atletico Madrid. Qui invece l'Atletico può già stare con la testa alla partita di mercoledì, ma il Milan comunque oggi si è riscattato. L'Atletico però deve anche fare punti in campionato per stare lì a combattere fino alla fine, quindi anche qui prevedo un Under, ma con un 2. Passiamo alla Ligan francese, Lille-Lyon. Beh, Lille viene da un paio di risultati negativi, però penso che alla fine vincerà questa sorta di partita di cartello di posticipo, quindi 1X o 1. Liga Zonesa-Gres, portoghese. C'è questa partita a Porto e Storilla alle 20.15. E anche qui il Porto è reduce dall'Europa League, 2-2, pareggio con l'Entrac di Francoforte, quindi ha speso molto in questa partita. Ma penso che alla fine il Porto vincerà di misura, quindi anche qua Under e 1. Ok, credo che abbiamo chiuso con i pronostici questa nuova sezione, scommettiamoci, spera di portarvi alla cassa stasera. Buonasera. Grazie a tutti.